All'interno di questo padiglione che rappresenta il gioco legale italiano trovi, credo, tutti d'accordo nel dire che questo settore ha bisogno di una presentanza unita nei confronti sia delle istituzioni ma anche della società civile. Quindi su questo buon bocca al lupo per il tuo lavoro. Detto questo entriamo nel vivo della questione, sono Cristian Tirabassi di Facom Leisure, vi presento i relatori di oggi, quindi abbiamo l'avvocato Rodolfo La Rosa, partner di Becker & McKenzie, Maurizio Hughi, presidente di Obiettivo 2016, Lorenzo Caci, sales manager di Sportradar, Marco Castaldo, direttore generale di Microgame, Pierangelo Raffini, business manager di Capecod e Andrei Guzzon di Game360 NYX. Allora, entrando nel vivo della questione, il tema oggi è la multicanalità e di fatto la multicanalità ha un approccio o un percorso che può partire da diversi elementi, diversi settori dell'industria. Quindi può partire dal segmento delle macchine, quindi AWP, WLT, può partire dall'online, può partire dal segmento scommesse e l'obiettivo è quello di poter offrire diversi giochi in maniera coordinata su diversi canali distributivi. Uno degli elementi in Italia è che chiaramente, da un punto di vista regolamentare, questo elemento non è ben gestito, non è stato ben pensato o è stato pensato ormai nel passato e quindi non adattato a quelle che sono oggi le dinamiche invece tecnologiche e di mercato, dove gli operatori più evoluti ragionano ormai nei confronti del cliente parlando di prodotti e di canali in maniera coordinata, cioè cercando di dare un'esperienza di gioco al cliente su diversi canali di distribuzione e cercando di darglielo sotto un'unica immagine coordinata, quindi di brand, di esperienza di gioco. Quindi questo è sicuramente una dinamica che vediamo sia nel mercato internazionale ma anche nel mercato italiano. Io credo che poi c'è un altro elemento che è quello che tra l'altro secondo me fa sì che questa fiera quest'anno ha un'attenzione particolare da parte di tutti, quindi degli operatori e dei grandi concessionari, è il fatto che chiaramente siamo in un momento storico particolare in cui il quadro regolamentare, quindi le licenze, sia sulla parte fisica o sulla parte online, dovrebbero ridisegnare un po' il quadro del mercato nei prossimi anni. Chiaramente siamo, come spesso succede in Italia, in un momento di incertezza, quindi quello che vorremmo fare oggi è parlare di aspetti, diciamo, di mercato ma anche di come questi aspetti di mercato hanno, che connubio hanno con di fatto poi il quadro regolamentare del gioco in Italia. Per fare questo la prima cosa che vorrei fare è cercare di fare un po' di ordine da un punto di vista regolamentare su quale è la situazione oggi e su quella che ci possiamo aspettare, quindi chiedo all'avvocato Rodolfo La Rosa di aiutarci a capire un po' il quadro in cui oggi siamo e cosa, diciamo, tutto il mercato si può aspettare nel prossimo futuro.